Bujiro secondo me è il tour de france delle start up cioè è una gara reale dove c'è un premio dove c'è fatica dove c'è aziende che si confrontano vengono aiutati dagli imprenditori per vedere quale è la start up con nostro parere migliore quest'anno io essenzialmente cerco dei futuri grandi imprenditori in funzione di quello che hanno fatto di quello che stanno pensando di fare si capisce se c'è qualche grande imprenditore in luce che vedo molto di più nelle persone rispetto che nelle idee. L'occasione di Bilos è mettere insieme i 40-50 imprenditori più di successo del digitale in Italia e metterli a disposizione perché possano parlare con le start up quindi questa penso che sia la più grande occasione per una start up di riuscire a confrontarsi e parlare con delle persone che hanno avuto i loro stessi problemi che conoscono bene che cosa deve fare per essere un riemprenditore per aver successo